Per iniziare con il video ragazzi però vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link per andare sul sito di Eneba Mi raccomando usate il mio codice cecchinato per ulteriore sconto e come potete vedere ci sono tutti i cosmetici, i codici di Fortnite, i bundle, tutto a prezzo scontato Basta cercare Fortnite sul sito di Eneba e vi appare tutto Usate mi raccomando il mio codice sappiate solo che ovviamente una volta comprato l'oggetto vi verrà mandato il codice del vostro acquisto anche degli altri videogiochi tramite email Potrete ovviamente comprare con qualsiasi cosa quindi Paypal, carte di credito eccetera trovate tutti i link utili qua sotto in descrizione Ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono cecchinato e oggi ovviamente siamo di nuovo qui per parlare di news e leaks di Fortnite Stavolta abbiamo altre novità per la stagione numero 4 in arrivo il 18 settembre e ovviamente altre piccole news curiosità insomma varie Detto questo prima di incominciare lo sapete già like mi raccomando se non sei ancora iscritto iscriviti con la campanellina Ti ricordo mi raccomando il mio canale Telegram in descrizione per news in tempo reale vi ho avviso quando escono i video eccetera E detto questo partiamo subito Oggi abbiamo parecchie informazioni interessanti soprattutto come vi ho detto nell'intro per la stagione 4 Però partiamo piano piano con delle piccole novità anche se tanto piccole non lo sono perché come possiamo vedere probabilmente il 30 agosto Data in cui ovviamente ci sarà la nuova patch 21.50 che diciamo l'ultimo aggiornamento grande Poi ci sarà la .51 che è un piccolo aggiornamento che secondo i vari rumor dovrebbe servire o per l'evento finale o per un probabile Rift Tour Quindi un nuovo concerto un po' come lo era stato con Ariana Grande solo che sarà chiaramente con un altro artista Lo spas comunque ragazzi potrebbe tornare quindi con l'aggiornamento del 30 agosto in base all'ultimo post che Epic ha rilasciato Che hanno scritto infatti in maiuscolo Legendary e ovviamente anche il Pampano quindi il nome Pampa è stato messo con la P maiuscola Che è comunque un dettaglio che potrebbe secondo i vari rumor far pensare secondo anche tra le altre cose Ipex Che è un po' diciamo il simbolo dei leakers Secondo lui potremmo vedere quindi un ritorno di un Pampa molto amato dalla community Fortnite E potrebbe essere quindi lo spas A ritornare però ragazzi sembrerebbe solo nella nuova LTM In realtà nuova non lo è però Nella LTM quindi della late game arena potrebbe tornare lo spas Solo probabilmente però ripeto in quella modalità Per quanto riguarda il drop che vi avevo già accennato in uno scorso video Che purtroppo non era stato attivato eccetera Su Telegram per chi è unito al mio gruppo avrà visto sicuramente il post È stato attivo esattamente nella giornata di ieri Quindi se non erro non è più disponibile Quindi se ora ho guardato una qualsiasi live non dovrebbe essere più disponibile Ma ieri alla fine era tornato Quindi per questo vi dico ragazzi mi raccomando unitevi al mio canale Telegram Perché in tal caso che ci siano dei cambiamenti di questo tipo Vi avviso subito su Telegram Perché chiaramente su YouTube fare un video incentrato solo su questo Un po' diciamo troppo Quindi vi invito mi raccomando nuovamente a unirvi a Telegram Così insomma quando ci sono questi avvisi di questo genere lo sapete subito E poi ragazzi finalmente sono arrivate nuove skin concept Come ben sappiamo molte di queste che vi metto qui alla mia destra Sì arriveranno o nello shop o magari in un pasbataio o in qualche altro modo Ma alcune di esse potrebbero poi anche non arrivare mai Quindi la maggior parte di solito arrivano durante il corso delle varie stagioni Altre magari no quindi insomma dipende un po' da Epic cosa vuole fare Queste comunque sono le skin se volete mettete pure in pausa Ve le potete vedere tranquillamente tutte Vi faccio però notare l'attenzione su una skin Tra le tante che vi ho fatto insomma appena vedere Perché sembrerebbe che secondo i vari rumor Questa skin con stili sbloccabili tra le altre cose Potrebbe far parte innanzitutto del prossimo pasbattaglia Che tra l'altro è molto bella come skin La vedo molto come skin finale del pasbattaglia prossimo Anche se di solito ormai mettono sempre una skin in collaborazione Quindi chi lo sa Quindi sostanzialmente questa skin non solo potrebbe essere presente nel prossimo pasbattaglia Ma secondo i vari rumor è molto importante per la storia di Fortnite futura Quindi potrebbe essere un personaggio che con la prossima stagione Potrebbe rientrare insomma nella storia di Fortnite Magari è collegato anche a qualcosa dell'albero della realtà Sicuramente si collegherà un po' il tutto Però dovrebbe entrare quindi nella storia di Fortnite di questo capitolo numero 3 E già ovviamente che parliamo in stagione 4 e di pasbattaglia Andiamo a vedere qualche piccola news Qualche leaks insomma che è stato trapelato sembrerebbe Della nuova stagione Prima di parlarne eccetera Vi dico già da subito che tutte queste leaks che stiamo per leggere Non sono sicure al 100% Potrebbero alcuni di esse rivelarsi fake Quindi non veri Quindi vi ripeto Prendete tutto quello che vi sto per dire con le pinze Potrebbe arrivare qualcosa come anche non potrebbe arrivare Quindi insomma è ancora una notizia O sono ancora notizie che devono essere confermate Però andiamole a vedere Perché infatti sembrerebbe che secondo i vari leaker anonimi Che insomma hanno twittato queste notizie Il vecchio sistema insomma del pasbattaglia Potrebbe tornare con la prossima stagione Il vecchio sistema del pasbattaglia Non so bene cosa potrebbe indicare Perché ci sono stati alla fine diversi stili del pasbattaglia A partire da quello del capitolo 1 Che aveva insomma un determinato sistema Che adesso non sto qui a pallarne eccetera Il capitolo 2 ne aveva un altro Il capitolo 3 insomma ha più grosso modo quello in realtà del capitolo 2 Però ecco Ci sono stati diversi stili del pasbattaglia Quindi potrebbe tornare magari quello del capitolo 1 Come anche magari quello del capitolo 2 Non si sa ancora Però secondo questa fonte Un sistema del pasbattaglia vecchio Ritornerà Però ripeto Ce ne sono diversi Quindi non sappiamo a quale proprio si riferisce Terza Anzi seconda cosa La skin segreta del pasbattaglia Sarà Doc Brown Quindi ritorno al futuro Sarà quindi un personaggio in collaborazione Nuovamente la skin segreta Secondo questa fonte Che vi ripeto Prendetelo con le pinze Non è ancora nulla confermato Poi il pasbattaglia ragazzi Secondo questa fonte anonima Include Spider-Man 2099 Ultron Visione E antivisione Queste skin Secondo questo leaker Dovrebbero essere Tutte quante nel pasbattaglia E da quello Che insomma Ho letto su internet Sono tutte insomma Collaborazioni Queste skin Inerenti alla Marvel Quindi Tra le altre cose Si diceva che Questo pas non era Insomma ovviamente Tutto a tema Marvel Ma sembrerebbe che comunque Qualche personaggio Insomma Sarà presente Della Marvel Chiaramente Nel pasbattaglia Ora Credo che tutti quanti Ragazzi Mi sembra abbastanza fake Come cosa Secondo me Uno tra questi Massimo due Ma credo che anche due Sia troppo Secondo me solo uno Comunque tra questi Potrebbe magari Rientrare Nel prossimo pasbattaglia Dubito fortemente Che Ben Quattro personaggi Siano presenti Della Marvel Nel prossimo pass Poi Questa fonte anonima Comunque dice Ci sarà un dorso Una copertura Completamente Personalizzabile Con oltre 75.000 Combinazioni Oltre 15 Aspetti Personalizzabili Sono tantissimi Quindi ci sarà Un dorso Un backpack Una copertura Armi Che saranno Personalizzabili Veramente in tantissime Maniere Per quello che riguarda Halloween L'evento di Halloween Sarà uno dei migliori Che insomma Abbiamo mai avuto Con ricompense gratuite Nuove armi E nuovi veicoli Quindi insomma Ragazzi Queste sono Dei rumor Dei leaks Prese da una fontanonima Prendetele con le pinze Vi dico la mia Di questi leak Che abbiamo appena letto Qualcosa di vero Potrebbe esserci Come la collaborazione Con Ritorno al futuro Come quella Della Marvel Ok Qualche Magari una Skin Potrebbe essere presente Tra quelle Che sono state elencate Saranno magari una Tra quelle presente Nel prossimo pass Ma Dubito che ce ne saranno Ben 4 Di skin Marvel Nel prossimo pass Quindi Io vi dico Secondo me Una Si potrebbe starci L'evento Halloween Potrebbe essere Tutto Vero Perché ci sarà Una nuova modalità Potremmo trasformarci In zombie È molto probabile Ci sarà di nuovo Il ritorno Della vecchia modalità Con il mostro Di salva al mondo Che dovremmo sconfiggere Poi ci daranno Anche ricompense Eccetera Quello assolutamente Si Ritornerà Il vecchio sistema Del pass battaglia Vedremo Quindi Secondo queste fonti Può essere così Però vi ripeto Prendiamole con le pinze Perché essendo fonti anonime Ci si può fidare Si ma non più di tanto Neanche Quindi potrebbe come no Detto questo Noi ci salutiamo Ragazzi ci vediamo Comunque con un prossimo video Mi raccomando Fatemi sapere Comunque cosa ne pensate Queste novità Secondo voi potrebbero essere vere O meno Fatemelo sapere con un commento Like Iscrizione E ci vediamo domani Alle 13 Sempre Come ogni giorno E ci vediamo Grazie a tutti.